Bene carissimi amici, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Come sempre la previsione lotto gratis a colpo secco a vincita venuta per l'estrazione di sabato 22 ottobre 2022. A vincita venuta. Una previsione che vi ho dato gratuitamente nei mesi di agosto e di settembre, che poi è diventata a vincita venuta. Vi ho dimostrato le grandi potenzialità di questa giocata, quando ha centrato due ambi in due mesi consecutivi. 8 ottobre ancora in corso, quindi mi auguro che entro la fine del mese ci possa dare un ambo secco. Non dovesse avvenire, ci può stare tutto. Abbiamo vinto diverse ambate, anche in posizione a colpo secco, quindi comunque ci sono stati buoni risultati. È chiaro che noi puntiamo all'ambo e vedremo cosa andrà a succedere fino alla fine del mese. È una giocata molto potente, è una giocata che vi consiglio di prendere e di giocare ogni mese, perché è una previsione che dà belle soddisfazioni. Sono quattro ambi su due ruote, bari nazionale, la previsione va a cambio dopo ogni estrazione, quindi giochiamo sempre a colpo secco e il pagamento si avrà soltanto se uscirà l'ambo a ruota. La cosa importante di questa previsione è che è una previsione a colpo, quindi le vincite che sono state ottenute, anche quelle di ambata, sono state molto importanti, perché dare una previsione per un colpo di gioco e vedere uscire anche solo l'estratto determinato è una vincita di grande valore. Questa previsione ha ottenuto dei bellissimi risultati. Quindi mi raccomando, contattatemi via WhatsApp 3487547715, con l'impegno di giocata da parte vostra, si accetta la modalità vincita venuta e si va a giocare la previsione. Ve la consiglio perché la bari nazionale a colpo secco è veramente un gioiello, quindi ha una strategia di elaborazione delle previsioni che è molto particolare. Quindi mi raccomando perché non mancherà di darci ancora belle soddisfazioni. Per adesso saluto a tutti, Mister Spanco.